Come ho detto, ci sono sempre l'improvazione, posso chiamare 50 giocatori, sarà il 55esimo che non è convocato e che qualcuno lo chiamerà. Gli ho già detto, posso convocare 50 giocatori, sarà il 55e chi è appellato per venire con l'equipe nazionale. È gioco della squadra, gioco di competizione, io cerco di scegliere quelli che mi possono dare risultato. È gioco dell'equipe, è gioco della competizione, ma devo chiedere gli giocatori che mi hanno amato il risultato. ZerTube, l'inizio di QTSS. Inizio di QTSS. Inizio di QTSS.